Aut è un libro molto importante per me, è un libro che nasce da un'urgenza culturale ed emotiva, quindi sia personale che del nostro paese intero. Noi viviamo in un paese in cui alle persone omosessuali non sono riconosciuti gli stessi diritti che sono riconosciuti alle persone eterosessuali, quindi questo libro nasce da questa emergenza che differenzia l'Italia dal resto d'Europa ormai. Questo libro è nato da un'idea dell'editore più che da un'idea mia, io scrivo romanzi e sceneggiature teatrali, ma quest'editore romano molto attivo nell'inchiesta, che è Editori Internazionali Riuniti, mi ha contattata per scrivere un libro che raccontasse le discriminazioni che ogni giorno io, lesbica, subisco sulla mia pelle e quindi tutte le persone omosessuali subiscono in Italia. Il libro è organizzato in due sezioni fondamentali, la prima è dedicata all'inchiesta, quindi racconto attraverso i numeri ciò che subiamo in Italia sulla nostra pelle e i diritti che ci vengono negati, presentando delle ricerche scientifiche nazionali per la prima volta in Italia, svolte da Archie Gay, che è la più grande associazione in Europa in fatto di tutela dei diritti delle persone LGBT, invece la seconda parte è una parte dedicata alla letteratura, è perché io nasco come scrittrice di poesie e di letterature e quindi ho voluto darmi una specie di risarcimento nella parte finale, lasciando spazio all'emotività e non più ai numeri.